Ciao amici e Revotech a tutti, oggi vi presentiamo questo speaker Tronsmart T7 dopo aver guardato e sfringuellato e analizzato e avervi fatto vedere tanti altri speaker di Tronsmart di questo brand veramente valido e affidabile e anche di qualità a prezzi veramente contenuti oggi passiamo a un prodotto molto più versatile, portatile, con led che potete usare all'aperto potete portarvi in campeggio, in escursione, è trasportabile perché è leggero, resistente agli spruzzi e alla polvere almeno 12 ore di riproduzione continua, led integrati e equalizzazione personalizzata via app dedicata che andremo a vedere a noi hanno mandato la colorazione black ma li trovate anche di altre colorazioni blu, rosa, turchese e dark red ma adesso non perdiamo altro tempo, lo apriamo, lo guardiamo insieme e vi dico subito anche il prezzo e la promo adesso collegata bene eccoci qua, intanto vi invito a venire sul nostro gruppo Revotech Group su Telegram e a unirvi al nostro blog ceotech.it, il blog di tecnologia più faigo che ci sia per leggere tutte le nostre recensioni scritte unitevi anche al canale di Nando Smartphone, Nando75, per visualizzare le sue offerte e i prezzi del suo negozio sempre su Telegram. Andiamo a prendere le nostre forbicine e lo apriamo perché vedete che è sigillato così lo proviamo insieme, vediamo che cosa c'è nella scatola, innanzitutto questo è uno speaker da 30 watt di potenza, ovviamente in tecnologia bluetooth, impermeabile come dicevamo, ipx7, 12 ore di riproduzione stereo a 360 gradi perché è rotondo. Non c'è altro nella scatola, c'è solo questa scatolina che andiamo subito ad aprire per vederne il contenuto, fogliettini vari, cavo di collegamento per caricare la batteria non c'è il cavo aux, cosa che invece trovavamo su altri modelli ma probabilmente non ha il collegamento e quindi avrà sicuramente meno porte perché ha meno spazio dedicato. Vediamo subito che porte ha a disposizione, c'è una micro sd per espandere la memoria e aggiungere file multimediali, anzi file musicali ovviamente per poter ascoltare i vostri brani preferiti, la type c, da quest'altra parte c'è uno speaker dalla parte bassa dal quale sicuramente usciranno i toni più bassi e c'è anche questa griglia, vedete e poi c'è questa copertura di tessuto ed è tutto cassa perché esce il suono in modo avvolgente da tutte le parti e sembra quasi una borraccia da viaggio, un contenitore di caffè, un termos nel quale conservare il caffè c'è anche il lacetto che è già installato per poterselo portare in giro, è leggero, non è assolutamente pesante allora innanzitutto parliamo di prezzi subito così vi dico quanto viene su Amazon in questo momento c'è il 15% di sconto direttamente in pagina, 54 e 99 anziché 64 e 99 c'è anche una versione colorata che però in questo momento costa di più, 56 e 99 il bluetooth è di tipo 5.3 e ha le stesse caratteristiche che abbiamo già visto sugli altri speaker di casa TronSmart adesso andiamo a prendere lo smartphone per integrare la sua app di monitoraggio così possiamo equalizzarlo, così vediamo se accendendo il dispositivo riusciamo ad abbinarlo per quanto riguarda le funzioni abbiamo i led che adesso andiamo a vedere che sono da questa parte poi c'è la funzione di chiamata vocale, c'è la micro sd da poter inserire e la ricarica di tipo C come abbiamo visto prima qua ci sono i comandi intuitivi direttamente da questa parte posizionati in verticale o in orizzontale in base a come lo mettete ma lui starà spesso in questo modo perché sennò se lo mettete su un piano inclinato vi rotolerà perciò è sempre meglio metterlo in piedi per farlo stare fermo a meno che non lo appoggiate a qualcosa le dimensioni del prodotto, la larghezza del diametro è di 7.8 cm, la lunghezza è di 21.59 cm, il peso è di 690 grammi perché comunque lui contiene una batteria che vi consente di utilizzarlo fino a 12 ore consecutivamente di riproduzione senza interruzioni, lo potete addirittura bagnare in piscina, lui resisterà almeno 30 minuti sott'acqua per mezz'ora per quanto riguarda la struttura abbiamo un woofer nella parte bassa appunto per i bassi come dicevamo prima poi abbiamo due altoparlanti laterali e poi due tweeter per gli acuti posizionati nella parte alta perciò voi non li vedete perché sono coperti da questo materiale in tessuto ma sotto, e non lo vediamo neanche noi ma sotto ci sono questi altoparlanti posizionati in questo modo per dare un'esperienza di suono avvolgente a 360 gradi tant'è che prendendone due potete avere una sorta di audio stereo se volete abilitare un audio senza fili non so, abbinato alla vostra smart tv piuttosto che a uno stereo che avete in casa che supporta bluetooth in questo modo potete avere una doppia cassa che comunque è di buona qualità perché abbiamo visto che l'audio di questi speaker si difende assolutamente bene ovvio che non è una cosa per audiofili però sicuramente se la cava qua c'è questa manopola che ruota che è dedicata al volume è molto intuitivo perché muovendola e toccandola alzate o abbassate il volume senza fare altro non dovete andare ad agire sui tasti che non hanno la funzione touch del volume andiamo ad accenderlo vedete subito appena lo accendete comincia a lampeggiare il led perché chiede l'abbinamento allo smartphone adesso lo andiamo a fare con la nostra app eccolo qua c'è il T7 vedete consenti consenti lui in automatico ha il bluetooth abilitato vedete quando il led diventa di tutti i colori allora significa che è stato abbinato correttamente adesso lo mettiamo così così riusciamo a vedere meglio l'app e mettere a fuoco meglio vediamo le impostazioni modalità di associazione stereo vedete carta TF non c'è perché non c'è inserita nessuna micro sd potete spegnerlo direttamente da qui poi qua c'è un'opzione per quanto riguarda tutta la scelta per l'equalizzazione per definito impulso sonoro classico personalizzazione se volete andare a giocare con i parametri dell'equalizzatore in modo personalizzato oppure ci sono già delle pre impostazioni anche vedete oppure per definito bassi profondi rock insomma potete andare a smanettare come meglio credete vediamo se c'è un firmware disponibile non c'è per il momento si può disconnettere c'è manuale d'uso è tutto molto semplice intuitivo immediato perciò adesso andiamo a dargli un input di ascolto per vedere come se la cava andiamo a mettere un nostro video chiamano solo Z60 ciao amici e Revotec a tutti e Nubia Z60 Ultra è l'ultimo smartphone diciamolo pure il fiore all'occhiello di questo marchio che culmina in un viaggio pluriannale di innovazione e di design per offrire ai consumatori un'esperienza di visualizzazione edge to edge molto buono l'audio con l'enorme schermo amoled da 6.8 pollici e al sistema a tripla fotocamera sul retro questo telefono ha molto da offrire e ci è piaciuto tantissimo come potete vedere la latenza è pari a zero e non ci sono ritardi di riproduzione nuovo a 649 euro nella versione da 256 giga oppure usato ma comunque pari al nuovo a 769 euro nella versione da 512 giga mi raccomando andate sul link in descrizione e unitevi al suo canale telegram per non perdervi tutte le promo sentiamo anche la sigla per punto di leggere tutte le nostre recensioni scritte il blog di tecnologia più faigo che ci sia ci vediamo subito dopo la sigla per la recensione di questo Nubia Z60 Ultra mamma mia impressionante rispetto agli altri top di gamma sotto i 1000 euro qua potete vedete cambiare ovviamente un device da tenere sotto controllo il Snapdragon 8 Gen3 un ampio sistema di fotocamera una batteria enorme da ben 6000 mAh e lo schermo edge to edge allora andando a cliccare sul tasto pulse che è pulse sound andiamo a vedere se riusciamo a cambiare le impostazioni predefinite andiamo a mettere non so classico lo possiamo far regolare tranquillamente è un S24 Ultra abbiamo le S Pen o uno stilo in dotazione le dimensioni sono le cifre stesse il volume risulta più aperto con toni medi un pochino più esasperati e anche i toni acuti più presenti se vado a cliccare questo tasto e tutto siamo ancora in una fase quasi sperimentale per quanto riguarda questo tipo di selfie card il volume è altissimo eh sta maturando e si sta affinando pian piano quando l'illuminazione è uniforme potete ottenere dei buoni selfie ma qualsiasi fonte potete anche poi regolare il volume direttamente dalla fonte bluetooth ovviamente allora dicevamo la batteria è un'unità da 2000 mAh perciò garantisce una riproduzione continua per tante tante ore e non rimarrete mai a secco questa manopola è solo vedete in base a come io la giro il volume aumenta o diminuisce ed è dedicata solo al volume non ci sono altre funzionalità per quanto riguarda questa manopola che ha questi scattini sentite tutta plastica ma di ottima veramente ottima qualità ben assemblata questa copertura che sembra abbia un effetto vellutato molto piacevole al tocco questa porta abbiamo visto che cos'è il woofer abbiamo visto che potenza la conferisce al sound di questo speaker che si presta a tutti gli utilizzi possibili e immaginabili soprattutto in mobilità in situazione di campeggio di escursione di gita potete utilizzarlo per ascoltare la vostra musica preferita o semplicemente utilizzarlo anche in abbinato al vostro smartphone in casa o abbinato alla smart tv o uno stereo casalingo non è obbligatorio usarlo in mobilità e ci mancherebbe sentiamo anche un brano classico per vedere come se la cava questa è la cava questa è la cava ma è una cosa che si trova il mio bilanismo che si trova se è la cava questa è la cava questa è la cava ecco una cava molto molto bene questo audio cliccando il tasto sound pulse si ottiene un audio un pochino più aperto io preferisco la versione un pochino più chiusa perché restituisce secondo me dei suoni più precisi ecco vi faccio sentire le differenze adesso ho messo modalità classica adesso c'è sound pulse attivo adesso è disattivo preferisco grazie a tutti direi che abbiamo sentito come si comporta poi potete ripeto giostrare con l'equalizzazione anche in modo personalizzato come volete non metto altri brani perché come sapete c'è il rischio del copyright il canale il video che viene bloccato eccetera eccetera comunque siamo riusciti a sentire qualcosa davvero un prodotto interessante versatile con un suono di qualità nonostante un prezzo che si aggira attorno ai 50 euro io direi che Tronsmart come al solito ha fatto centro per quanto riguarda questo tipo di prodotto abbiamo già avuto modo di provare altri device di questo brand e non siamo mai rimasti delusi perciò sicuramente lo consigliamo senza ombra di dubbio perché se andate a spendere sì forse qualcosina in più rispetto ad altre marchi più o meno sconosciuti qua avete la certezza di avere una qualità veramente alta detto questo salutiamo tutti venite sul nostro blog ceotech.it il blog di tecnologia più fairo che ci sia leggere tutte le nostre recensioni scritte mi raccomando il link in descrizione con la promo cliccate se siete interessati all'acquisto e ovviamente in questo modo sosterrete il nostro canale venite anche a trovare il canale telegram di Nando 75 smartphone per ricevere tutte le offerte del momento su tutti i prodotti del suo negozio ci vediamo prestissimo per tanti altri contenuti qui su Revotech un saluto da Pasqui e soprattutto Revotech a tutti ciao